Buonasera e benvenuti a tutti a questa conferenza, mi presento, sono Alessandro Cantale dei Grille Stensi, attivista del Movimento 5 Stelle. Oggi abbiamo il piacere di avere qua Stefano Santacchiara, uno dei due autori del libro I panni sporchi della sinistra, i segreti di Napolitano e gli affari del PD. Stefano è un giornalista di inchiesta che collabora col Fatto Quotidiano. Oltre a lui abbiamo anche l'onore di avere tre rappresentanti politici, tre parlamentari, due deputati, Vittorio Ferraresi e Giulia Sarti e l'ex capogruppo al Senato di Nicola Morra. Iniziamo e intanto come premessa dico che purtroppo dobbiamo chiudere alle 22.30 rigorosamente perché comunque domani la libreria lavorano e quindi noi dobbiamo sgombrare per quell'ora e dopo il dibattito potete fare tranquillamente domande, chiunque vuole può venire qua e può fare domande e può intervenire. Io inizio dicendo che il libro l'ho letto e per certi versi è parecchio sconvolgente per le cose che ci sono scritte. Ti chiedo Stefano in qualità di autore, com'è nata l'idea di questo libro? C'è stata una molla che ti è scattata che detto non ne posso più, devo scrivere un libro? In effetti è vero, questa domanda è la prima volta che mi viene posta. Il libro è nato grazie a un'idea avuta insieme a Ferruccio Pinotti, un collega del Corriere della Sera che lavora a sette settimanali nel quotidiano di Via Solferino e ci siamo trovati, lui è autore già di tantissimi altri libri sulla massoneria, sul Vaticano, l'Opus Dei, l'Unto del Signore, il libro su Berlusconi, infatti di diversi in questi anni tutti su temi scomodi non trattati dai media generalisti e io mi occupavo invece di cronaca giudiziaria nella mia regione, l'Emilia Romagna, per l'informazione, un giornale locale che per cinque anni ha dato fastidio un po' alle cricche di potere del PD, alle sue collusioni corruttive e mafiose e in particolar modo nella zona di Modena, di Reggio Emilia e per il fatto quotidiano da quando appunto è nato il giornale di Padellaro e Travaglio nel 2009 e abbiamo fatto il corrispondente per un punto raccontando queste inchieste. Quando ci siamo trovati nel 2012 io e Ferruccio abbiamo pensato che nessuno aveva mai raccontato non solo la storia dei personaggi che troviamo qua, i maggiorenti del centro-sinistra, in particolar modo della sinistra, dell'area appunto DS, PD, EXP, DS, PC, che naturalmente avevano solo delle geografie a livello così appunto di bibliografia, ma abbiamo pensato che fosse anche necessario un compendio su tutti gli scandali che hanno riguardato la sinistra, in particolar modo negli ultimi anni, scandali che ci hanno fatto considerare quella vissuta dal PD, insomma dagli eredi appunto del PC di Berlinguer, come una mutazione antropologica, un'involuzione proprio genetica di questo partito che aveva nel suo DNA. Non soltanto parole, perché poi noi non siamo assolutori su tutta la parte precedente, nel senso che c'era comunque il flusso dall'Unione Sovietica dei rubli col finanziamento illecito fino al 1978, per sua stessa missione, del tesoriere Gianni Cervetti del PC all'epoca, corrente migliorista, quella di Giorgio Napolitano. C'erano stati problemi, una contabilità parallela già dimostrata dal procuratore di Venezia, Nordio, che non aveva portato a condanne, ma nella sua inchiesta su una serie di crack pilotati di cooperative ericole negli anni Ottanta, venuti fuori nel periodo di Mani Pulite, che non ha interessato soltanto Milano, ma anche Tangentopoli, Veneta, Emilia un po' meno, diciamo, comunque altre regioni sono state interessate, Napoletana, corrente migliorista in primis, e quindi premesso che ci sono stati problemi nel partito comunista anche di tangenti di contabilità parallela, primo aggreganti, Tangentenimot, eccetera, e il finanziamento illecito dell'Unione Sovietica prescritto, anzi, scusate, amnistiato grazie al provvedimento di cremenza del 1989, però il partito di Enrico Berlinguer aveva obiettivamente altri riferimenti, altri principi che nel concreto proprio dell'azione politica possiamo tranquillamente paragonare al partito di oggi e sono situazioni che non sarebbero concepibili. Nel senso che il partito comunista italiano, a parte appunto un minor numero di scandali emersi dall'indagine della magistratura, comunque non si sarebbe mai sognato, come documentiamo nel libro, di appunto intessere un vero e proprio sistema di commistione tra pubblico e privato, tra enti locali e multiutility, tra partito e banca, come MPS, ma prima ancora i tentativi sponsorizzati dall'Ala Dallemiana, in particolar modo di creare questo asset bancario del nord, questo terzo polo, lo descriviamo MPS prima di acquisire Anton Veneta, strapagandola nel 2007 in maniera insensata, o meglio, i magistrati stanno ancora indagando per capire se c'era un senso al di là, al di là appunto di un'operazione senza due diligence compiuta dalla mattina alla sera che ha favorito il Banco di Santander, appunto con un'acquisizione per la Guardia Finanza ha calcolato 16 miliardi in totale rispetto a un pagamento che era di 6 erotti da parte del Banco Spagnolo alla precedente proprietario che era la BN Ambro, la banca olandese, insomma, che aveva vinto la concorrenza di Fiorani in precedenza, la banca popolare di Lodi. Ma il Monte dei Paschi prima di fare questa acquisizione era stata interessata ad altri tipi di affari, per esempio nel 2000 dopo avere comprato in blocco, proprio fagocitato, la banca del Salento, la 121, famosa per essere una banca molto aggressiva, vi ricordate siamo nel periodo dell'abolizione da parte di Clinton dello Stiegel Act della divisione tra banche ad affari e banche di risparmio che non c'è più e quindi l'inizio delle grandi crisi, delle speculazioni con i derivati, dei giochi borsistici che hanno portato poi il crack del 2008 da Lehman Brothers e quindi la crisi mondiale che tutti sappiamo nasce anche da quel provvedimento clintoniano e in quel periodo Monte dei Paschi guarda con interesse una banchetta locale pugliese del Salento governata da Vincenzo De Bustis, un banchiere d'Alemiano che descriviamo nel libro, poi andrà alla Deutsche Bank, avrà una sua carriera in Inghilterra come grande esperto di finanza e di speculazione e questa banca non viveva sicuramente, persino i Rothschild che erano advisor di MPS all'epoca avevano sconsigliato questo acquisto di comprare una banca che certo si connotava per prodotti innovativi, virtual banking, sportelli virtuali, uso molto del digitale, dell'informatico e soprattutto di questi piani di investimento aggressivi, non so se ve li ricordate, My Way and For You che garantivano interessi certi, utili certi ai risparmiatori che invece sono stati rovinati, ridotti sul rastrico a centinaia, infatti sono centinaia le cause civili che poi sono state intentate per questi fatti, penalmente è stato assolto Bustis, comunque restano delle perdite rilevanti da parte di questa banca che è stata acquisita da Montedipaschi e contestualmente la banca senese ha promosso Bustis come vicepresidente. Questo prima, quindi siamo nel 2000, degli scandali che tutti sappiamo, in seguito Montedipaschi ha messo, non anche ha messo le mani, ha avuto così l'idea lanciata soprattutto dall'ala d'Alemiana del partito che si contrapponeva a quella dei senesi, del groviglio armonioso come lo descrive Stefano Bisi, il gran venerabile della massoneria toscana, direttore del Corriere di Siena e adesso è in ascesa anche nel grande oriente d'Italia a livello nazionale. Questo groviglio armonioso che a Siena vedeva assieme la massoneria, la curria, il partito naturalmente che con il comune e la provincia esprime la maggioranza nella fondazione che detiene il pacchetto nazionale di controllo della banca, ecco questo groviglio armonioso si opponeva in parte al progetto d'Alemiano di una fusione tra Montedipaschi e Banca Nazionale del Lavoro che è l'oggetto del desiderio da sempre di quell'area politica riferita appunto Massimo D'Alema, Fassino, Bersani che erano andati anche a fare dei colloqui con il governatore dell'epoca di Banca Italia Fazio e questa acquisizione non va a buon fine perché appunto c'è un'opposizione della controparte senese, del potere locale, nemmeno quando Unipollo si propone con Gianni Consorte di essere la terza gamba dell'operazione e di realizzare appunto questa grande fusione del credito rosso. Quindi diciamo tutti questi affari dove la politica emerge chiaramente anche dalle inchieste della magistratura, abbiamo la famosa scalata poi successiva di Unipolla BNL nel 2005, tutti ricorderete con le famose intercettazioni telefoniche tra Consorte e D'Alema e Fassino e La Torre, in particolar modo con D'Alema e La Torre secondo il GIP milanese Clementina Forleo vi erano tutti i crismi per contestare il reato di aggiottaggio in concorso con Consorte, la Procura di Milano non ha inteso indagarli ma al di là delle scelte certamente emerge una commissione politico-faristica clamorosa di un D'Alema e di un La Torre che si scambiano consigli con il Dominos di Unipoll che sta scalando in quel momento appunto la Banca Nazionale del Lavoro acquisendo grazie a degli accordi diciamo alla luce del sole con le cooperative e invece più occulti con i costruttori romani appunto il cosiddetto contropatto, Caltagirone eccetera, Coppola, Statuto. In quel momento appunto Consorte si scambia consigli con la Torre D'Alema, poi abbiamo riportato le intercettazioni, vi ricordo soltanto così la più clamorosa quando D'Alema dice a Consorte che se serve Vito Bonsignore, grande signore dell'autostrade tra l'altro già in diversi affari anche con il PD per esempio la costruzione della maestra Civita Vecchia sponsorizzata da Bersani che poi non sia ancora fatta però insomma è ancora lì sul tavolo che costerebbe di più del ponte sullo stretto di Messina quindi con penali già pronte a scattare da parte appunto di Bonsignore e di questi signori che hanno interesse in campo. Ecco Bonsignore aveva il 2% con la sua Jeffip, una holding belga, all'interno di azioni BNL, all'interno del contropatto dei costruttori romani e D'Alema gli dice a Consorte se serve Bonsignore resta a lattere su un piano politico io ho regolato da parte mia. Insomma se questo è solo tifo da stadio insomma pensate voi. Ecco Clementino Forleo aveva pensato, aveva scritto in un'ordinanza che questi signori erano appunto concorrenti nel reato di agiotaggio informativo insieme appunto a Consorte. Queste vicende che hanno avuto ovviamente conseguenze sul piano, non hanno avuto conseguenze sul piano giudiziario però moralmente restano come maccini su quella appunto che possiamo definire la degenerazione etica e anche progettuale perché non neghiamo che insieme a questo problema della questione morale denunciata a suo tempo da Enrico Berlinguer per quanto riguarda il PSI del rampantismo del PSI di Craxi, tra l'altro un termine utilizzato già da Pierpaolo Posolini rispetto alla società italiana consumistiche quindi alla sua degenerazione rispetto ai valori è una crescita che era anche connessa allo sviluppo sociale. Poi nel libro parliamo anche di quella fase che appunto riguarda Aldo Moro e Berlingueri, il compromesso storico per cui mi dispiace sempre quando si utilizza il termine compromesso storico per gli inciuci poi della Seconda Repubblica perché andiamo a svilire invece dei momenti storici alti che hanno anche fatto progredire con conquiste sociali importantissime, servizio sanitario nazionale, statuto dei lavoratori, obbligo scolastico, legge sull'aborto, legge sul divorzio, tutte ottenute grazie alla sinistra di allora e ai movimenti, società civile che all'epoca era molto più compenetrata ed ascoltata da 68 in poi. Quello che appunto il Movimento 5 Stelle adesso con le sue battaglie porta avanti in difesa dell'acqua pubblica, in difesa appunto degli interessi della collettività rispetto alle grandi lobby che grazie a queste maschere sempre per stare a pasolini politiche fanno i loro interessi senza grandi problemi. E quindi no per insomma concludere sul discorso perché abbiamo deciso per tutta questa somma di ragioni che dal locale al nazionale, dall'amministrazione al governo e anche a livello europeo perché non ci dimentichiamo appunto che queste maschere non fanno nulla per impedire appunto i diktat della dottrina dell'austerity, i dogmi del turbo liberismo, a prescindere comunque da comunque uno la pensi perché non è questione di destra o di sinistra ma l'Italia è l'unico paese in Europa che ha svenduto tutte le reti strategiche nazionali, non ha più nessuna possibilità di fare una policy, non ha nessuna visione della società di incidere con un timone sull'economia nella situazione che abbiamo adesso di stagnazione assoluta, parlano solo di spending review, parlano soltanto di tagli, di tasse, questo è il paese già, non ci vuole un chienesiano per dire che questa è una spirale che porta ulteriore crisi. Quindi questo speriamo sia uno stimolo per direttore il dibattito su questi temi. Grazie Stefano, io a questo punto parlerei del, ce ne citi tanti personaggi in questo libro, il principale nel titolo è Napolitano e mi ha colpito nel senso che per molti si pensa che il potere di Napolitano sia nato dal 2005 in poi, cioè da quanto è diventato Presidente della Repubblica, dimenticandosi tutto ciò che è avvenuto prima, cioè il pre-Presidente della Repubblica di Napolitano e lì ne sono successe di cose, ne ha fatte di cose, ne ha combinate di cose l'attuale Presidente della Repubblica, ce ne parli? Sì, in effetti Napolitano, le ragioni della sua ascesa sono molteplici e abbiamo cercato di costruirle grazie appunto a un lavoro certosino anche del mio collega Ferruccio Pinotti che è veramente in questo senso stato molto bravo per quanto riguarda anche le interviste che ha realizzato, perché la famiglia, oltre ovviamente a documenti dell'intelligence americana. Napolitano in effetti nasce come un comunistano omalo, nasce in una famiglia borghese, il padre Giovanni Napolitano è un avvocato partenopeo iscritto a una loggia massonica, questo è un scopo appunto del collega Pinotti fin da 1911. Napolitano non è massone, non abbiamo la prova, insomma quindi non possiamo affermarlo, questo va chiarito preliminarmente, ma vive in questo così ambiente, in questo mie familiare con collegamenti che secondo alcune fonti che abbiamo intervistato, cito quelle appunto di Giuliano Di Bernardo, ex del Grande Oriente d'Italia, poi passato dalla loggia italiana, l'unica riconosciuta in Inghilterra, o Magaldi appunto del Grande Oriente Democratico, l'opposizione diciamo all'interno della massoneria nazionale, entrambi dicono che Napolitano come così per ragioni familiari, dinastiche, per ragioni anche di sue idee, di quello che ha espresso poi nel corso degli anni potrebbe appartenere alla massoneria atlantica internazionale o americana o inglese, eccetera. Queste però sono le loro opinioni, quindi questo non c'è la prova. Il padre era massone, questo lo possiamo dare per assodato. Era chiaramente un comunista liberale, anche se può sembrare uno simoro, ma poi l'embrione, la destra del PC, l'embrione di quello che sarà poi la corrente migliorista, che è un termine cognato dal filosofo Salvatore Veca per dire che c'era l'intenzione, corretta peraltro, che storicamente era l'unica possibile, di coniugare le idee socialiste, comuniste con la democrazia, con il capitalismo, quindi migliorare il capitalismo senza abbatterlo con una rivoluzione, con la violenza. Quindi Napolitano è espressione di quella, così, borghesia liberale napoletana che a livello comunque anche di suo cursus onorum accademico nasce all'interno dei giovani universitari fascisti. Il GUF napoletano ha fatto parte, quindi non è predisposto, diciamo, geneticamente a livello familiare come humus culturale a una così resistenza, una vera e propria sinistra così di popolo. Fa parte della borghesia napoletana, si iscrive poi dopo finita la guerra al Partito Comunista e diventerà però, nonostante abbia appunto delle competenze economiche, si occupi come responsabile della cassa del mezzogiorno del partito, sviluppi, poi sa parlare le lingue, farà il traduttore a capri, insomma diverse tipologie di lavori che porteranno anche a distinguersi all'interno del partito e sviluppa comunque un conformismo diciamo così piuttosto marcato. Quando avviene nel 1956 la rivolta di Poznan in Polonia e l'invasione famosa di Budapest da parte dei carri dell'armata rossa si schierà subito pedissequamente sulle posizioni di Togliatti del migliore, quindi non è che dica qualcosa, anzi criticherà Antonio Giolitti, nipote dello statista liberale che invece lascerà il partito come altre centinaia, anzi migliaia di militanti per approdare nel PSI proprio perché è contrario a quella svolta autoritaria, insomma a quell'evidenza autoritaria del blocco sovietico. Ecco in quel momento Napolitano è assolutamente schierato con il partito però nel corso degli anni riesce a acquisire punti in maniera così anche piuttosto disinvolta presso le potenze occidentali ed è questa la ragione che io e Ferruccio consideriamo fondamentale per spiegare le ragioni della sua scesa, cioè Napolitano negli anni 70 in un momento storico peculiare quando appunto c'è il compromesso storico di cui dicevamo prima che dava fastidio sia ad est che ad ovest, nel senso che c'era un partito comunista di Berlinguer prima ancora di Longo che insieme a una democrazia cristiana illuminata dei Mattei e poi successivamente degli Aldo Moro aveva portato avanti uno sviluppo sociale, una certa indipendenza, non entriamo nel dettaglio delle svalutazioni della lira, però abbiamo detto prima delle conquiste sociali, abbiamo un paese che comunque è abbastanza indipendente, un comunismo tra virgolette democratico, quello di Berlinguer e quindi questo è guardato, è in viso sia agli Stati Uniti naturalmente che hanno appena fatto il golpe in Cile con Pinochet e poi con complici di Pinochet, questo per tabula storicamente e poi all'Unione Sovietica che non accetta Berlinguer che ha subito denunciato, ha fatto lo strappo da Mosca e quindi abbiamo una situazione dove la posizione di Napolitano si inserisce, si insinua in un pertugio strettissimo in cui nel 1978 arrivando al punto, risparmiandovi tutti i veri report dell'intelligence statunitense che lo raccontava già come il più affidabile tra i comunisti, che non mangiava i bambini ma che era una persona con cui dialogare e mediare, Napolitano si reca negli Stati Uniti, il primo del PC a violare lo Smith Act, il maccartismo, all'epoca non c'erano stati ancora comunisti negli Stati Uniti e il primo è lui. Enrico Berlinguer pare avesse concordato un viaggio ma per motivi ignoti, purtroppo i parenti non ci hanno voluto spiegare, questo viaggio di Enrico Berlinguer salta e ci va al posto suo Napolitano. In febbraio c'è l'accordo 1978, quando si trova negli Stati Uniti avviene il sequestro di Aldomoro, durante i 55 giorni non ritiene di dover rientrare in Italia in fretta furia ed è questa l'unica cosa che gli imputiamo, a livello di opportunità in un momento in cui c'è praticamente un colpo di Stato contro il nostro Paese perché è stato eseguito le bregate rosse ma ormai lo dicono diversi osservatori, il giudice Imposimato che si era occupato del caso riferisce delle responsabilità di Cossiga e di Andreotti, quindi parliamo comunque di un livello politico e di servizi di Mezzomondo che sapevano dove era evidentemente custodito Aldomoro, quindi abbiamo una situazione di golpe e Napolitano ritiene di non dover tornare in Italia, questo per far capire che è un fatto. Poi dopo naturalmente abbiamo Napolitano che avrà diversi ruoli di responsabilità, sarà Presidente della Camera poi negli anni Ottanta, si avvicinerà un altro personaggio, so che poi c'è anche questo discorso naturalmente su Berlusconi che finanzia il moderno, il settimanale piduista Berlusconi, già palazzinaro con miliardi di provenienza ignota, con uno stagliere Vittorio Mangano della famiglia di Porta Nuova di Cosa Nostra all'interno della sua villa per due anni portato all'idea dell'Utri, quindi un Berlusconi disifatto così pedigree è il finanziatore non solo di Craxi, naturalmente 21 miliardi estero su estero scoperti dopo mani pulite, ma anche del settimanale il moderno non è un reato, ha finanziato un settimanale, non è finanziamento illecito della politica, il moderno è il settimanale dei miglioristi e qui ci rilasciamo poi al rapporto tra Napolitano e Berlusconi che prosegue, Berlusconi tra l'altro grazie al PC perché non poteva non avere una valla del partito italiano, realizzerà due affari clamorosi in Unione Sovietica, da un lato, lo dico brevemente, sarà, vincerà praticamente la concessione della pubblicità sulla TV di Stato dell'Urs, cioè Publitaia di Dell'Utri vince la concorrenza di tutto il mondo e trasmette e raccoglie la pubblicità per i comunisti, cattivi comunisti che nell'88 quando c'era Milan Steaua Berlusconi disse, ma non possiamo che vincere noi, sono comunisti, e quindi che Dio lo vuole, e quindi no, praticamente abbiamo una situazione dove Berlusconi inviterà Boa Gorbaccio, Spesso, Maurizio Costanzo Scho, cioè è il primo capitalista, non so se sappiamo se è il primo, ma italiano a mettere i piedi e fare gli affari dall'altra parte della cortina di ferro al momento del crepuscolo del comunismo. Napolitano in tutto questo, naturalmente è il ministro degli esteri in pectone del Partito Comunista dopo già degli anni 70, questo anche se era Cervetti formalmente a occuparsi dei rubli, e quindi ha rapporti ad est e ad ovest, ha un'ascesa molto forte, diventa presidente della Camera nel periodo di Mani Pulite, governando naturalmente in quel periodo c'erano tantissime richieste di autorizzazione a procedere, perché all'epoca non potevano i magistrati di procedere nei confronti dei parlamentari, poi è stata abolita per fortuna la moneta parlamentare, governando la Camera appunto con la prudenza che gli era dovuta, in particolare poi in seguito, vabbè, siamo anche nel periodo della stragi in effetti di Capace e di Vieda Meglio, in particolar modo tra Capace e Vieda Meglio. Napolitano viene nominato presidente della Camera quando Scalfaro diventa presidente della Repubblica e si libera il posto perché Scalfaro è presidente della Camera, Spadolini al Senato, secondo Gioachino Genchi, consulente della Procura di Palermo, che aveva smascherato fin da subito la bufala a Scarantino, insieme alla Boccassini va detto, mentre invece la procura di Tinebra e Arnaldo Labarbera, Essen, Squadra Mobile, SISDE, Servizi Segreti invece avevano fabbricato Scarantino. Ecco, Genchi dice che secondo lui le bombe di San Giovanni in Laterano e San Giorgio in Velabro del 27 luglio 1993 sono due messaggi ai due presidenti delle Camere, Giovanni e Giorgio, Spadolini e Napolitano, questa è la sua opinione, però un esperto che va tenuto in considerazione proprio perché c'è questo cambiamento ai vertici delle istituzioni, sappiamo che Anderotti non diventerà presidente della Repubblica, ci andrà Scalfaro, vabbè, comunque lasciamo perdere le varie posizioni singole. In seguito abbiamo Napolitano che, ecco questo è un fatto concreto, non è che stiamo facendo congettura, nel 2001 distruggerà la legge sui pentiti, sui collaboratori di giustizia, perché praticamente insieme a Flick, ministro della giustizia, come racconta ottimamente Marco Travaglio e Giulia, ne hanno parlato diverse volte, impone con questa legge che i pentiti rendano dichiarazioni entro i 180 giorni. È una follia, voglio dire, l'unico modo per scardinare le quattro organizzazioni mafiosi non solo Cosa Nostra, che è la più potente in quegli anni e forse ancora oggi per i legami con la politica, ma anche l'andrangheta a livello mondiale, leader nei traffici di droga, come spiega sempre Gratteri, naturalmente di traffico d'armi, anche per conto di Cosa Nostra, Sacca Corona Unita, molto sommersa, vedrete questo Lorusso che parla con Rina, sono personaggi che secondo me verranno fuori in un secondo momento come la mafia legata alle istituzioni e poi la camorra più anarchica, meno verticistica, meno strutturata come cupola. Ecco però queste quattro mafie, se non hai i pentiti e le intercettazioni che vogliono costantemente limitare i politici, non le puoi scardinare. E quindi per scardinarle i pentiti hanno bisogno del loro tempo, come sappiamo Falcone e De Gennaro ottimamente avevano fatto pentire Buscetta che diede il via alla Pizza Connection americana grazie a Rudolf Giuliani che diede grandi, per quanto un repubblicano, insomma, comunque diede grandi risultati nella lotta alla mafia e poi con l'FBI e in Italia con Giovanni Falcone, Paolo Borsini e il pull antimafia di Antonio Caponnetto, grandi risultati per quanto riguarda Cosa Nostra fino al maxiprocesso eccetera eccetera, che porta appunto alle controreazioni che sappiamo alle stragi. Non solo quello naturalmente, c'è anche lo Stato, però quello fu un colpo fondamentale per abbattere Cosa Nostra e questo per dire che Napolitano, non è che ha responsabilità di tutto il mondo, però nel papello di Rina consegnato nella famosa trattativa secondo la procura di Palermo ai due ufficiali del ROS, Mori e De Donno, Davito Ciancimino per conto della mafia, con le richieste appunto di Cosa Nostra, ci sono diversi punti, uno viene anche trattato tra l'altro nel libro perché si parla di dissociazione, che era quella che veniva sullo stile delle Brigate Rosse, cioè si dice tu anche se non ti penti, quindi non ci dici niente, non collabori, basta che si dissoci e avrai dei benefici. E Violante era favorevole, come una parte di MD, va detto. Questo lo dichiara lui, poi casualmente, non è che stiamo parlando che il papello ci mancherebbe, Violante è sopra ogni sospetto. Però per quanto riguarda il papello c'è anche questo punto di scardinare i pentiti che sono una spina nel fianco fondamentale nei confronti di Cosa Nostra e Napolitano e Flick invece promuovono e fanno approvare una legge che impone un timer di 180 giorni alle dichiarazioni, il 181esimo un brusca, non poteva più valere niente, quello che diceva. Quindi Napolitano ha avuto un ruolo anche in questo, al di là non vi sto a ripetere l'ultima questione delle telefonate con Mancino che tutti già sapete, e poi abbiamo appunto la Presidenza della Repubblica che c'è l'impeachment anche se non ha possibilità di riuscire la messa in stato d'accusa in confronto di Napolitano, che però comunque ha sicuramente esteso le prerogative presidenziali rispetto al solco costituzionale, perché appunto insomma ci sono tantissime anomalie, non solo il doppio pesismo appunto di avere salvato Berlusconi per un anno quando Fini ha lasciato la maggioranza di centrodestra, non soltanto le leggi vergogne promulgate in prima istanza senza mai respingerle come avevano fatto Ciampi e Scalfaro, non solo tutto questo, i dieci saggi che è una sorta di preincarico collettivo che non ha senso, non ci sono precedenti nella storia quando congele il povero Bersani che aveva diritto comunque di andare in aula, visto che Andreotti e tanti governi sono stati fatti sulla base di voti d'astensione, quindi aveva diritto anche lui, e lui aveva già in mente le larghe intese addirittura vincolandola delle riforme, cosa che un governo e che lo stesso Presidente che si è auto poi ricandidato dicendo che faceva un sacrificio, quando erano al sesto voto, sesto scrutinio di Rodotà, le dico, sono arrivati al ventunesimo con Saragat, con Pertini e invece avevamo l'emergenza democratica doveva essere Napolitano, se no non si andava avanti. Quindi insomma tutte queste anomalie fanno rendere evidenti le ragioni per cui Napolitano è una macchina della politica italiana, garante dei poteri forti non solo atlantici, internazionali, e che ha anche avallato comunque l'arrivo di Renzi. Non dico che Napolitano e Renzi fossero d'accordo fino all'inizio quando nel 2011 non ha mandato il voto, non ha dato la parola agli italiani alla caduta di Berlusconi nominando il tecnocrate Monti. Però Renzi in quel momento ha potuto organizzare le sue forze, diventare lo sfidante di Bersani e adesso dopo lo scoop, tra virgolette scoop, invece Friedman va in televisione tutti i giorni, a me non mi invitano, chissà come mai. Friedman ha fatto lo scoop dicendo che Napolitano aveva fatto dei colloqui con Monti prima, non era neanche immaginabile, aveva dominato senatore a vita. Quindi praticamente Monti, Renzi in quel momento si organizza e come diciamo nel libro, giusto per concludere poi diamo la parola agli altri che sto parlando solo io, Renzi ha dei personaggi che ritroviamo anche con Napolitano. Non è appoggiato soltanto dalla grande finanza, dalla grande industria, dall'elenco sconfinato della valle in pregio di lo Fiat, non manca nessuno. Ma addirittura alla Leopold c'era Michael Liden, esponente dei falchi di destra, repubblicana, americana, esperto di servizi segreti che già negli anni 80 era in Italia ed era quella parte, era anche consulente del Sismi, tra l'altro non solo della CIA, ed era quella parte che considerava Napolitano il garante dei poteri atlantici. Quindi Renzi piace alla grande finanza, piace ai poteri atlantici e adesso anche questa legge elettorale che imporrà, appunto diciamo che non dimezziamo il Senato da una parte a camera dall'altra, non si vota fino al 2018, quindi i poteri forti faranno quello che gli pare per tre anni. Mi viene in mente una frase di Alessandro Di Battista alla Camera che dice che Napolitano era in politica e che Stalin era ancora in vita, quindi questo per far capire appunto che non è proprio un politico di primo pello diciamo. E qui entra in gioco il Movimento 5 Stelle con la sua richiesta messa d'accusa del Presidente della Repubblica. Stefano dice che non ci sono speranze, che comunque verrà numericamente, è evidente che non ci sono speranze, però comunque si deve andare avanti. Mi riferisce Giulia, tu che ne pensi? Tra l'altro tu punti molto sul fatto che non sono state pubblicate le intercettazioni Napolitano Mancino, che quando Mancino contattava D'Ambrosio eccetera eccetera Sì grazie, ovviamente grazie a tutti voi per essere qui stasera, un sabato sera speso ad ascoltare un bravissimo giornalista come Stefano Santacchiara e noi parlamentari è davvero una grande, secondo me anche presa di posizione da parte dei cittadini che hanno voglia di informarsi, quindi grazie per esserci. Sì, io sono una di quelli insieme a tanti altri miei colleghi e insieme poi alla gran parte di cittadini di questo paese che si chiede oggi, ancora oggi, come sia possibile che il Presidente della Repubblica sia diventato appunto una sorta di di monarca nell'immaginario comune e che quindi si sia permesso di sollevare questo conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale che ha poi dato modo con la sentenza che è stata emessa di distruggere le intercettazioni tra lui e Mancino. Nicolo Mancino appunto che ricordiamolo è imputato tuttora al processo sulla trattativa Stato-mafia che si sta celebrando a Palermo e tra mille insidie e mille difficoltà. Nicolo Mancino è l'uomo che appunto nel 92 poi era Ministro dell'Interno e che ha continuamente negato per tanti anni di aver incontrato il primo luglio Paolo Borsellino, 18 giorni prima della strage di Via D'Amelio, mentre le trattative, quindi non la singola trattativa ma più trattative tra lo Stato e la mafia erano in corso. Nicolo Mancino vede Paolo Borsellino c'è la testimonianza di questo incontro da parte dei familiari di Paolo Borsellino, della moglie Agnese che purtroppo ci ha lasciato proprio quest'anno e c'era scritto nell'agenda grigia di Paolo Borsellino questo incontro con Mancino, Paolo Borsellino aveva due agende, una grigia e una rossa. Quella rossa purtroppo è uno dei motivi per cui è nato anche il movimento agende rosse, cioè è sparita il giorno della strage dalla borsa di Paolo Borsellino, nell'altra agendina, quella grigia, c'era questo appuntamento con Nicola Mancino segnato primo luglio. Bene, un uomo delle istituzioni nega per tantissimi anni che questo incontro sia mai avvenuto salvo poi appunto dopo anni rivelare che sì forse questo incontro c'è stato ma lui non si ricorda di cosa hanno parlato, non si ricorda nemmeno che faccia avesse, Paolo Borsellino non lo conosceva, cioè il magistrato che da anni insieme a Giovanni Falcone e a pochi altri in questo paese si stava battendo contro i legami tra criminalità organizzata e istituzioni e pezzi deviati dello Stato, stava dando veramente una dimostrazione di come lo Stato può punire la mafia quando vuole dare dei segnali. Bene, il ministro dell'interno non sapeva che faccia avesse Paolo Borsellino nel 1992. Questi sono i soggetti che vivono ancora oggi. Io faccio una piccola parentesi perché poi appunto con Napolitano, diciamo di Napolitano noi parliamo molto però io volevo anche dirvi una cosa secondo me importante che deve emergere in questa serata. Questo libro, io quando l'ho avuto subito occasione di leggerlo, l'ho appena uscito per me è importante, è stato importante non solo per diciamo tutta la storia di determinati personaggi che oggi sono al potere in questo paese, non solo per la storia dei vertici della sinistra italiana ma anche per farci capire che cos'è diventata la cosiddetta sinistra italiana oggi. Cioè noi, c'è una grande fetta, una gran fetta di persone in questo paese che continuano ad attribuire al Partito Democratico il ruolo appunto della sinistra italiana di quei valori che erano quelli di Berlinguer e di tanti personaggi che oggi purtroppo non ci sono più. Ecco, questo libro è una delle tante testimonianze per far capire invece a che cosa sono arrivati i vertici, e non solo i vertici, cioè a che cosa è arrivato il Partito Democratico oggi, non vent'anni fa, cioè oggi che cos'è il PD. È molto importante e noi in questo anno abbiamo vissuto mille esempi perché certe cose ci sono appunto passate davanti agli occhi e non ce ne siamo nemmeno accorti. C'è sicuramente gli esempi più accretanti di tutti del governo, cioè noi abbiamo prima con il governo Monti si sono palesati, l'accordo bipartisan è diventato visibile a tutti, quindi governo Monti sostenuto con l'illusione del bene del paese da Berlusconi e centrosinistra e poi con il governo Letta ancora di più la presa in giro dei cittadini e quindi di nuovo l'accordo PD-Berlusconi. Dopodiché con Renzi adesso tuttora ulteriore presa in giro, ai vostri occhi quindi niente elezioni, non chiamiamo i cittadini ad eleggere i propri rappresentanti, ma Berlusconi sta all'opposizione, ma comunque andiamo a governare con Angelino Alfano, facciamo un cambio e Renzi e Angelino Alfano che governano insieme. Se questo non vi basta e quindi questo purtroppo non basta all'opinione pubblica, questo libro è un'ulteriore dimostrazione perché si basa su fatti, quindi non su opinioni, qui non si danno opinioni politiche. Stefano Santacchiara e Ferruccio Pinotti sono due giornalisti di inchiesta che sono abituati a parlare con i fatti, non con le supposizioni come avviene in tanti talk show. Però io ho piacere di raccontarvi anche quello che personalmente e poi anche in Parlamento ho visto come Movimento 5 Stelle della dimostrazione appunto di che cos'è il Partito Democratico. Nel 2009 quando ancora non c'era neanche il pensiero di arrivare magari alle elezioni politiche del 2013, era solo un sogno. Io ero impegnata a Bologna con tanti altri colleghi del Movimento 5 Stelle che era appena nato e eravamo in consiglio comunale con un solo consigliere. Abbiamo iniziato, una delle prime cose che ricordo abbiamo fatto è stato iniziare a mettere le mani in una delle più grandi multiutility che gestisce gran parte delle nostre vite in questa regione e non solo. Sto parlando di Iera. Nel 2009, guardate queste cose, ne abbiamo parlato tante volte, le abbiamo gridate nelle piazze, le abbiamo urlate, ma sono passati anni ed è ancora giusto ricordarle. e per me sono un monito per tutta la mia attività parlamentare oggi. Nel 2009 io mi sono ritrovata con uno scandalo incredibile che veniva raccontato dai giornali ma di cui appunto nessuno si curava né a Bologna né nei consigli comunali dove il PD era presente. E cioè all'interno della grande multiutility che raccoglie 51 società al suo interno tramite un gioco di matriosche, sapete che ci sono le società partecipate, collegate eccetera eccetera. Bene, all'interno del grande gruppo ERA c'era una società si chiama SCR coperta da segreto fiduciario, cioè di questa società non si conoscevano né i rappresentanti, gli amministratori della società non si conoscevano, era tutto coperto da segreto fiduciario ed era mascherata tra l'altro da Monte dei Paschi di Siena e si è scoperto che l'amministratore, uno degli amministratori di questa società, cioè colui che andava alle riunioni del gruppo ERA in rappresentanza della SCR era Giovanni Cosentino, il fratello di Nicola Cosentino, era dal tempo deputato senatore del PDL colpito, arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa, aveva legami con la Camorra quindi di Nicola Cosentino e sapeva tanto, il fratello Giovanni era rappresentante di questa società, la SCR, eppure il fratello aveva legami con la Camorra era sposato con la figlia di un camorrista e la SCR nella provincia di Caserta aveva degli interessi incredibili con la Camorra di cui nessuno parlava e che nessuno raccontava, bene, questa società e quindi i legami che ERA aveva con l'SCR che gli permetteva di avere degli interessi direttamente nella provincia di Caserta, stiamo parlando della terra dei fuochi e che gli permetteva quindi di pigliare appalti per magari costruirsi la centrale a biogas e in quello specifico caso era proprio una centrale a biogas o comunque di avere interessi nel giro di rifiuti fino alla provincia di Caserta bene, questa situazione, quindi questa società coperta da segreto fiduciario non ne parlava nessuno, noi siamo stati i primi nel 2009 a portarla in consiglio comunale a Bologna badate bene che ERA comunque dovrebbe essere, anche se è un SPA, cioè lei svolge funzioni pubbliche quindi non potrebbe, non può avere al suo interno società coperte da segreto fiduciario di cui non si conosce nulla, deve essere trasparente nel codice di ERA, se voi andate a guardare dovrebbe rispondere ai criteri più importanti dell'evidenza pubblica tra cui appunto la totale trasparenza delle società che gravitano nel circuito ebbene quando abbiamo denunciato questa situazione dovevate vedere i consiglieri del Partito Democratico invece di preoccuparsi, invece di far tesoro delle notizie che arrivavano dal fatto quotidiano che anche quello era appena nato e dalla stampa locale e dal Movimento 5 Stelle che gli portava questo problema in consiglio comunale, cioè Giovanni Cosentino il fratello anche lui appunto riconducibile alla Camorra, dentro era SPA che sta gestendo rifiuti, gas, luce ormai tutto nella nostra regione, ma cavoli, fatevi voi promotori PD per dire a ERA di eliminare questa società di buttarla fuori e invece no, si coprivano, si sono continuamente coperti, ci abbiamo messo due anni alla fine ce l'abbiamo fatta, nel 2011 ERA ha eliminato SCR, ma guardate bene, i dialoghi che c'erano in quel momento erano davvero uno specchio del Partito Democratico oggi, cioè nascondere i problemi sotto il tappeto nascondere i problemi sotto il tappeto perché ERA è la loro longa manus, ERA è il loro braccio armato nonostante sia una società che ha un conflitto di interessi incredibile perché gestisce i generitori e promuove la raccolta di fenestriata col tempo e non parliamo poi appunto di tutti i problemi che ha creato in questi anni Vittorio che è in Commissione di Giustizia con me ma che si occupa tanto di ambiente e ve li saprei eventualmente raccontare se avrete voglio questa sera o in tante altre occasioni però ERA con il PD si sono sempre coperti l'un l'altro e tutte le volte che c'è un problema non riesce mai a venire fuori ad essere sviscerato. Un altro esempio palese del legame che il PD ha con la criminalità organizzata, quella furba, quella che vada appunto agli affari non quella delle lupare o delle coppole, sono le cooperative, le cooperative rosse di cui parlavamo prima Signori, io appunto nel 2010 le dicevamo certe cose, Piazza Maggiore a Bologna è stata ristrutturata dalla Consorzio Cooperativo e Costruzioni dalla CCC insieme alla società ICLA di Napoli è riconducibile dal clan Novoletta, quindi Camorra. Sono cose che noi abbiamo avuto sotto gli occhi continuamente e oggi purtroppo la situazione non è cambiata. Io in Commissione Antimafia stiamo cercando di... abbiamo aperto tante parentesi, una di queste riguarda Expo e quindi tutti i lavori connessi a Expo del 2015. Bene, abbiamo società riconducibili alle cooperative rosse, una ad esempio è la CMC di Ravenna che sono magari indagate in certe regioni per abusi, perché hanno probabilmente, la magistratura sta indagando certe cose sono anche evidenti, hanno legami con la criminalità organizzata ma si prendono gli appalti in Expo, magari gli arriva l'interdittiva da parte del prefetto di Milano perché capiscono che c'è qualcosa che non va, con l'interdittiva loro non potrebbero più lavorare ma cosa succede? Queste società fanno ricorso al TAR, lo vincono e ricominciano a lavorare con gli appalti in Expo ce ne sono, guardate, tutta una serie di società che hanno scavalcato la giustizia, stanno scavalcando la giustizia in questo modo, quindi la cortina che appare, la superficie dentro Expo non ci saranno infiltrazioni della criminalità organizzata poi vai a scavare e scopri che appunto aziende che vengono colpite da interdittiva e quindi hanno magari appunto sono indagate o hanno subito già condanne, ci sono delle prove dei loro legami magari con la criminalità organizzata vengono salvate perché il TAR, fanno ricorso, il TAR gli annulla l'interdittiva e loro ricominciano a lavorare e il prefetto a quel punto non può farci niente, abbiamo delle norme malate in questo paese e il Partito Democratico invece di cercare di migliorare questa situazione fa spalluce fa spalluce, perché conviene, perché conviene e serve soprattutto che queste situazioni permangono un altro esempio veramente palese di anni fa che poi si riversa ancora oggi sono alcuni esponenti e parlamentari del Partito Democratico nel 2008 io quando ero una ragazzina, lo sono ancora, avevo 22 anni e mi divertivo ad andare davanti ai politici a fare domande scomode chiedevo in campagna elettorale per le politiche a Walter Veltroni ma perché diavolo candidava Vladimiro Crisafulli nella lista del PD Vladimiro Crisafulli era stato beccato da una cimice, da un'intercettazione ambientale mentre faceva baci a bracci con un boss di Cosa Nostra, bevi l'acqua questa roba qui era una prova, non è che puoi sentenziare su un'intercettazione o su una cosa del genere è un fatto, è avvenuto, questo aveva legami con un boss di Cosa Nostra candidato nelle liste del Partito Democratico in Sicilia quando a Veltroni nel 2008 gli chiedevo conto di questa semplice cosuccia la risposta fu incredibile, degna del migliore dei berlusconiani la risposta di Veltroni nel 2008 fu io devo, mi dispiace ma io devo garantire tutti se in Sicilia non faccio così non prendo i voti cioè questo era il significato, io in Sicilia devo garantire tutti questo è il Partito Democratico ma rendiamoci conto di che cosa siamo in cosa la gente crede oggi è scellerato questo patto e queste commissioni che esistono e che si perpetuano tuttora lo avete appunto visto come dicevo prima con il governo bipartisan ma noi lo vediamo ogni giorno in Parlamento negli interessi che vediamo dietro al PD molti ci dicono e ci hanno accusato per tanto tempo ma voi Movimento 5 Stelle dicendo queste cose date voti a Berlusconi e li fate perdere alla sinistra no signori? quello che stiamo cercando di dirvi insieme appunto a persone anche molto più brave di noi che lo fanno da tanti anni come sono i pochi e bravissimi giornalisti di inchiesta di questo paese è una cosa molto semplice aprite gli occhi aprite gli occhi perché perché guardate io personalmente sono se il Movimento 5 Stelle in questo paese non esistesse io ho sempre avuto nella mia storia insomma nella mia educazione dei valori di sinistra insomma non mi vergogno a dirlo anzi sono orgogliosa comunque quello che però mi ha fatto entrare in questo movimento e che mi fa capire che ormai devo guardarmi intorno in maniera diversa e che purtroppo quei valori in cui io con cui mi hanno educato e con cui sono cresciuta non li ritrovo nel Partito Democratico di oggi non ci sono nella sinistra di oggi come non esiste una destra di questo paese perché non veniamo a raccontarci la Silvio Berlusconi non è destra come Matteo Renzi non è sinistra allora noi dobbiamo riabituarci a non rimanere fermi alle sigle cerchiamo di andare oltre se vogliamo un'Italia diversa fra vent'anni e fra trent'anni noi queste cose le dobbiamo non solo leggere ma farne tesoro e chiedere conto ai nostri rappresentanti ogni giorno che passa se vogliamo davvero riavere una sinistra degna di chiamarsi sinistra in questo paese fra venti o trent'anni allora mi piacerebbe che gli elettori del PD andassero dai loro rappresentanti a chiedere conto di queste cose a chiedere conto delle cose che vengono fuori dai giornali o che vengono scritte in un libro perché appunto o che vi raccontiamo noi parlamentari con le nostre denunce ogni giorno perché non si tratta di opinioni si tratta di fatti e questo sistema non lo scardineremo mai finché continueremo ad avvallare certe porcherie i legami che appunto io vi posso raccontare tra criminali organizzati e certi vertici del PD come certi comuni sciolti per mafia che sono del PD e non sono del PDL queste sono cose che accadono oggi nel 2014 non sono cose del passato quindi finisco ovviamente perché concludo perché voglio lasciare la parola anche ai miei colleghi però io veramente spero che questa sera vi rimanga vi faccia venire insomma questo libro come ha fatto venire a me la voglia di capire di più di studiare un pochino di più di andare oltre alle sigle di andare oltre allo slogan che vi viene combinato nel talk show e andare un po' oltre chiedervi a Ferrara che interessi ha il Franceschini di turno cioè chi è Franceschini per esempio o chiedervi chi sono i vostri amministratori comunali chiedervi perché difendono così a spada tratta Era cosa sta facendo Era in questa città chiediamocelo tutti interroghiamoci e fatevi sentire fatevi sentire come lo potete fare stasera con noi parlamentari questa cosa dovrebbe essere possibile ogni giorno in ogni contesto dal quartiere al Parlamento fino al Parlamento europeo andate a chiedere conto ai vostri amministratori comunali perché hanno paura di voi hanno paura di voi il problema è che finché continua ad esserci questa totale mancanza di indignazione e di rabbia da parte delle persone loro continueranno si basano su questo sulla vostra ignoranza informatevi e non abbiate paura e prendete il coraggio per andare a fare delle domande ed avere le risposte grazie Giulia assolutamente grazie per ciò che dice e per la passione che ci metti io a proposito a proposito degli impresentabili c'è un capitolo proprio nel libro impresentabili del PD perché si ha la sensazione che è come se il PD fosse immune da questo scenario come se solo il PDL ci sia questo problema in realtà è il PD da falla morale in realtà anche il PD Crisafulli è uno degli esempi ma ce ne sono tanti altri fra cui appunto adesso Serra Mazzoni è stato tra l'altro ma adesso proprio attualità gentile che si è appena dimesso so che al Senato state preparando una mozione di sfiducia per quei 4-7 sottosegretari non si capisce il motivo per cui l'abbaraccio sia stata adesso messa sottosegretario ma appena un mese fa non fu candidata in Sardegna sempre dello stesso partito si tratta prego bene intanto ringrazio anche io tutti quanti voi perché come diceva Giulia essere qui presenti essendo sabato sera dimostra che c'è una sensibilità che si sta risvegliando c'è una sensibilità che noi dobbiamo continuare ad alimentare perché noi abbiamo il dovere e diritto di riprenderci in mano la nostra vita con la sua dignità dignità che c'è stata tolta in quanto italiani da una classe rappresentante o dirigente come dir si voglia che di fatto ci ha continuato a trattare come sudditi ma perché noi gliel'abbiamo consentito in quanto abbiamo in tutti i modi consentito a certi lessofanti di cui Giulia ma poc'anzi anche Stefano ci hanno narrato le vicende di poter fare tutto quello che di fatto sono riusciti a fare con incredibile fantasia con incredibile con incredibile fantasia vi dicevo ma anche con incredibile intelligenza perché poi si scopre quanto più gli studi che sono veramente perversi quando vogliono sopraffare i diritti altrui però io voglio si ricordare la vicenda Antonio Gentile anche perché Antonio Gentile è un senatore eletto in Calabria regione da cui anche io sono eletto ed è un senatore che vive nella stessa città in cui io vivo quando io sono arrivato a Cosenza alla fine degli anni ottanta io da ragazzo qual'ero ho scoperto che in alcune parti del nostro territorio permanevano incrostazioni di feudalesimo in quanto al sud per quanto io avessi studiato letto ricercato continuavano a vivere delle dinastie che trasferivano il potere di padre in figlio di nonno in padre e via dicendo o se necessario da fratello a fratello perché i Gentile sono tre fratelli quelli politicamente lì davanti che sono riusciti a mettere sotto scacco da prima una città dopodiché anche una regione io vi potrei dire tanto di questo senatore vi potrei dir per esempio del fatto che nel 2006 lui è PDL ma è PDL casualmente perché lui è espressione di un potere clientelare che forse alcuni definirebbero tranquillamente mafioso che poi non ha problemi se un anno si presenta con il PDL e l'anno dopo con il PD perché tanto l'importante è essere in sella ora nel 2006 in particolar modo nella zona popolare detta di via Popilia della città di Cosenza appunto in occasione delle elezioni politiche si registrò un caso di voto disgiunto alla Camera moltissimi avevano votato Nicola Adamo marito di Enza Bruno Bossio che è vostra collega nonché mia concittadina perché anche là fra marito e moglie insomma si spartiscono i ruoli uno alla regione l'altro in Parlamento PD rigorosamente PD e poi però in tantissime schede si trova anche espresso per il voto dal Senato l'indicazione per Antonio Gentile all'epoca Forza Italia a dimostrazione del fatto che come diceva appunto Giulia più che le parole poi contano i fatti e noi italiani dobbiamo essere educati a valutare non tanto le parole perché a parole tutti quanti vogliamo la giustizia il bene comune l'acqua pubblica tutto quello che vogliamo il problema è poi farlo e il movimento da questo punto di vista ci ha educato ad una pedagogia dei fatti non è necessaria una legge per non prendere ciò su cui non hai alcun diritto lo fai a prescindere vi ricordate Matteo Renzi quando ha cominciato sfidiamo il movimento 5 stelle se voi mi date una mano ad abolire il Senato io rinunzio ai rimborsi pubblici in termini di battute il bomba è proprio senza rivali perché una ne dice e cento ne prepara però noi dobbiamo educarci a valutare non più le battute i tweet gli slogan quanto piuttosto i fatti concreti i fatti reali pertanto io voglio essere breve perché voglio sentirvi voglio darvi la parola e voglio sentire nuovamente Stefano io vorrei però spendere qualche minuto per indicare come certi autori e certi libri debbano in qualche misura trovare diritto di cittadinanza nelle nostre librerie le librerie di casa devono essere piene di questi strumenti che ci debbano in qualche modo rafforzare la memoria perché un altro problema di noi italiani è che perché il sistema l'ha voluto siamo stati indeboliti in una facoltà che è appunto anamnesis memoria che invece deve essere costitutiva per l'identità di un soggetto e di un soggetto che voglia esprime giudizi politici io qua leggo cose di Giorgio Napolitano afferenti al 1953 quando è entrato per la prima volta in Parlamento leggo fatti riguardanti Nicola Mancino riguardanti Giulio Andreotti fatti avvenuti magari negli anni 80 negli anni 90 benissimo noi dobbiamo avere memoria di tutto ciò perché se abbiamo memoria capiamo che abbiamo di fronte e gli possiamo oppure no dar fiducia in funzione della credibilità che quel soggetto ha ma se noi continuamente resettiamo la memoria perché il sistema questo vuole tutti quanti continuamente si presenteranno come il nuovo che avanza adesso rivelo il contenuto di una conversazione che ho avuto con Anna Maria Bernini proprio pochi giorni fa lei mi ricordava di suoi trascorsi agli inizi degli anni 90 lei figlia di un vecchio ministro democristiano che poi ha deciso di passare nell'iniziale furore entusiasmo per Forza Italia sperimentando questo contenitore da cui poi il padre comunque si è allontanato lei all'epoca mi ricordava di essere schierata con a N e di avere attraverso il padre conosciuto agli inizi degli anni 90 tal Renzi Matteo quello che oggi viene ad essere il nuovo che avanza inizio anni 90 presentatogli dal padre attraverso Pierferdinando Casini e Ciria Codemita io potrei anche concludere qua perché noto che insomma questi nomi li conoscete abbastanza però ecco ognuno di noi ha una storia storia che si costruisce di fatti di parole di scelte se noi riusciamo a conservare memoria di tutto ciò soprattutto nell'agire pubblico poi scegliere diventerà automaticamente più semplice a noi ci hanno sempre infinocchiato appiccicandoci addosso destra centro sinistra e facendoci credere che se tu sei di sinistra sei per il popo se tu sei destra sei per l'individualismo se tu sei di centro cerchi insomma di arrabbattarti e di mediare però poi nei fatti chi ci proponeva questa vulgata questa minestra nei fatti ci fotteva perché la vera discriminazione che io registro e la registro ormai da tempo immemorabile insomma da subito e che in Italia e non soltanto in Italia noi abbiamo accettato un grandissimo fossato fra noi elettori e gli eletti gli eletti quasi quasi approfitto insomma del verbo e quindi del suo semantema che rinvia pure alla sfera religiosa gli eletti sono quasi degli unti del signore io pur essendo credente mi considero molto molto laico e vi ricordo qual è stata la mia percezione quando sono entrato per la prima volta in vita mia in senato pochi giorni prima dell'insediamento del senato stesso perché siamo stati convocati a fare i documenti cosiddetti vado emozionato perché non capita tutti i giorni di poter entrare nel senato della repubblica in quanto senatori cittadini eletti vado faccio tutto quello che devo fare mi avvicino alla porta la porta dell'ingresso principale quello quindi di palazzo madama che faccia soccorso di nascimento sto per aprire la porta e noto che un commesso fa un balzo di oltre un metro lui si trova dietro di me per aprirmi lui la porta io perché ho detto no no senatore prego senatore certo senatore ancora non ero stato di prego senatore scappellamento a destra avrebbe detto qualcuno e così via questo semplicemente perché sei un eletto cioè automaticamente vai su un'aura che ti permette di acquisire dei titoli che io penso francamente di non avere perché gli unici titoli a mio avviso li potranno dare tutti gli altri e soprattutto ex post io ricordo molto spesso una famosa poesia di del principe Antonio De Cortis salivella poi sarà per chi ci crede oppure no che dopo si dovrà dire perché sul momento ci sono tanti meccanismi per cui molti giudizi sono sempre costruiti voglio concludere questo mio breve excursus invitando Stefano a due lavori così gli do degli stimoli punto primo mi piacerebbe che per esempio un lavoro del genere avesse ad oggetto i panni sporchi della politica meridionale io lo inviterei a togliere proprio della sinistra perché al meridione sono melasse così amalgamate fra di loro per cui un anno si presenta con il PD l'anno dopo con il PDL dopo due anni con SEL Stefano Stefano il presidente della giunta che ha valutato Berlusconi in qualche modo ineleggibile e pertanto poi ha permesso che arrivasse in aula il caso del senatore Berlusconi Stefano proveniva dalla Margherita e adesso è con SEL ma io ho letto cose allucinanti perché mi si insegnava pecunia non olet e quindi quando c'è soldo quando c'è potere tutto è lescito l'altro tema su cui mi piacerebbe Stefano e i suoi colleghi potessero lavorare è quello appunto della casta per come è stata tratteggiata da Gian Antonio Stella e da Sergio Rizzo ma anche e soprattutto della cassa parlamentare perché dico questo? Perché in occasione proprio del mio intervento sul senatore Gentile io ho prodotto anche l'interrogazione scritta e pensando di non far nulla di male ho chiesto in quest'atto di sindacato rispettivo che il governo conferisse su questioni relative al senatore Antonio Gentile sono stato chiamato dal funzionario dell'aula dicevo questa chiamata prego lei senatore Morra ha presentato una interrogazione sulla questione di Calabria dell'ora della Calabria sì certo allora le dovrei dire una cosa va bene sono qua gli ho dato l'indicazione mi dica e guardi non può scrivere Antonio Gentile come non può scrivere Antonio Gentile no perché per l'auto di Chia per cui per quel meccanismo che è stato voluto in costituzione gli eletti si sottraggono a qualunque giudizio perché legibus solutus io sono come loro e così via in pratica non è stato possibile nell'atto di sindacato ispettivo indicare con nome e cognome che ha fatto una schifezza o comunque chi si ritiene abbia fatto una schifezza semplicemente perché appartiene ad una categoria quella dei parlamentari che non può essere oggetto di giudizio perché noi siamo sacri siamo veramente al di là del bene e del male visto che sono nella libreria concedetemi questa citazione niciana e francamente tutto questo deve cambiare io penso che noi si sia tutti qua perché si vuole cambiare allora destra sinistra centro mezza la destra mezza la sinistra non c'entra niente qua è una questione d'onestà qua è veramente il pre-politico cosiddetto che deve essere richiamata alla memoria certe cose i nostri genitori i nostri nonni non le avrebbero ammesse a prescindere dall'etichetta e tutti quanti noi abbiamo memoria di comportamenti un tempo si diceva da galantuomini promossi da persone che magari militavano in un altro campo politico ma a cui si riconosceva onestà e serietà noi questo dobbiamo fare il movimento è nato per questo quando questo dovesse essere realizzato noi ci andremo anzi io spero il più presto possibile perché questo significa che l'Italia verrà rimessa incareggiata noi ci andremo tranquillamente a casa e l'Italia tornerà ad essere sempre che lo sia mai stato un paese in cui si valutano le idee in funzione della coerenza con cui sono trasformate in fatti vi ringrazio grazie grazie Nicola grazie del tuo intervento io farei l'unico che non è intervenuto prima volta è Vittorio che è uno dei parlamentari sospetti tu Giulia sei stata sospesa? no io no ah ecco lui si fa almeno un po' di vacanze tra l'altro ci racconti anche questa vicenda della sospensione da Broschian ha preso uno schiaffo vale meno rispetto al vostro atteggiamento quindi tra l'altro vabbè no e se ci spiegavi anche il fatto visto che comunque nel libro se ne parla tra l'altro del dilemma del finanziamento pubblico molti dicono ma come fa il 5 Stelle perché i partiti non si vogliono togliere i soldi e devono restituire miliardi e miliardi di euro ai cittadini italiani c'è stato un referendum nel 93 che nessuno rispetta e il 5 Stelle invece riesce a fare politica riesce a portare ad avere 9 milioni di voti senza finanziamento pubblico quindi evidentemente si può fare grazie Alessandro intanto buonasera a tutti è veramente un piacere vedere la sala piena e ringrazio anche Stefano Santacchiara che è noto anche per essere un giornalista abbastanza scomodi avete avuto qualche problemino anche in quelli modi come meetup se ne siamo occupati per sostenere un'attività che secondo me è veramente indispensabile in un paese in cui appunto chi fa il proprio lavoro viene veramente ostacolato abbiamo un sacco di pennivendoli al servizio del potere e ne abbiamo avuto prova con De Benedetti del gruppo Espresso Repubblica che praticamente servono una politica che ha distrutto questo paese negli ultimi vent'anni e continuano a essere al loro libro paga scrivendo menzogne invece chi fa il proprio e lo dichiarano invece chi fa il proprio lavoro portando alla luce dei cittadini un'informazione scomoda un'informazione che tutti dovrebbero conoscere per poi andare a votare su quella scheda ogni cinque anni viene ostacolato con molto spesso come abbiamo visto anche con le questioni riguardanti i report con querele diffamatorie su querele intimidatorie scusate che poi fanno fare molto spesso giornalisti che chiaramente non hanno dietro un apparato e non hanno dietro le risorse un passo indietro sul lavoro che stanno facendo chiunque legge già i primi capitoli di questo libro può capire che in Italia c'è un grosso puzzle che è un puzzle fatto di tanti pezzi della politica italiana se noi capiamo questo e uniamo tutti questi pezzi possiamo capire il perché oggi ci ritroviamo a parlare di Napolitano di Berlusconi e di Renzi allora perché il discorso della memoria è importante perché noi siamo un paese di fatto senza memoria che con un Berlusconi sconfitto politicamente per la sciagura che ha lasciato nel nostro paese si è ripresentato alle elezioni dopo due anni di governo tecnico e ha preso quasi 8 milioni di voti e questo non si spiega ovvero si spiega perché lui ha fatto negli ultimi due o tre mesi grosse sparate dicendo che restituiva l'Imu agli italiani e gli italiani che è un popolo che veramente manca del sale della democrazia che è l'informazione l'ha rivotato l'ha rivotato non solo per l'Imu ma anche per veramente un'incompetenza e una colpa della sinistra italiana che ho paura di chiamare sinistra perché veramente Berlinguer a questo punto si rivolterebbe nella tomba visto anche i colloqui di Renzi con Berlusconi nella sede del Nazareno e comunque quindi ha continuato con questo atteggiamento che l'ha portato poi ad essere la terza forza politica del paese quindi la prima al senato e cosa è successo? è successo che c'è maggioranza al senato con la sua coalizione e quindi tutti questi interessi che hanno portato avanti queste due carte che sono il centrodestra fantomatico centrodestra e centrosinistra si sono sempre spalleggiati fino al momento in cui hanno dovuto esternarsi quando il movimento 5 stelle è arrivato a tanto così dalla loro faccia ha dimostrato di essere una forte opposizione opposizione nel vero senso della parola cioè non per finta come hanno fatto vedere negli ultimi vent'anni i partiti di destra e di sinistra è dimostrato che ci sono degli interessi cioè non come diceva Giulia non si tratta più di concetti di sinistra o di destra ma si tratta di poteri potentati economici si tratta di interessi di spartizioni di appalti e si tratta di posizionare magari politici trombati nei consigli di amministrazione quindi nei posti giusti di società partecipate per poi suddividersi il potere clienterale sui territori e lo vediamo con due regioni che sono sicuramente il fiero all'occhiello uno da parte della destra e uno da parte della sinistra ovvero la Lombardia con le cooperative legate a CL e l'Emilia Romagna con le cosiddette cooperative rosse come appunto Lega Copp e altre che si suddividono si spartiscono diciamo gli appalti e questi appalti affioriscono interi miliardi di euro pensiamo all'autostrada Cispadana all'Ortemestre con Bonsignori e alle grandi opere gli inceneritori e quindi in tutto questo collage diciamo di interessi i capofili sono i partiti politici sono i partiti politici che in questo caso appunto hanno il sostentamento tramite il finanziamento pubblico ai partiti e quindi viene garantito tramite questo finanziamento il loro potere anche sul territorio e ci ritroviamo in aula e guardate io sono entrato con la più buona volontà in Parlamento perché a 26 anni penso che dovevamo dimostrare di fare qualcosa di fare i fatti reali per il paese anche se ci trovavamo davanti veramente una cozzaglia uno schieramento di persone che era faceva le losing al potere ed era veramente un insieme di interessi che guardava solo appunto alla propria sopravvivenza e questo l'abbiamo visto quando abbiamo cacciato i lobbisti dal Parlamento cioè delle persone che venivano vicino alle commissioni a dire come votare a un partito piuttosto che a un altro questo ti fa capire di quanto conti poco l'ideale l'ideale sia veramente estinto le idee siano estinte e quanto contino invece gli interessi delle parti cioè non c'è più un Parlamento che fa gli interessi dei cittadini ma fa gli interessi delle imprese e quando questo accade lo vedi lo vedi non lo vedi per la tv non lo vedi sui giornali lo vedi nelle commissioni dove effettivamente si svolge il lavoro parlamentare e la prima occasione è stata veramente la legge sull'omofobia ovvero una cozzaglia di partiti legati da certi interessi che però vanno in contrasto quando si parla di 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 leggi appunto per esempio sui diritti civili cioè loro sono d'accordo a modificare la costituzione perché gli garantisce certi interessi sono d'accordo a fare la legge elettorale insieme perché li fa stare in piedi e fa uscire di scena il movimento 5 stelle questo sono tutti d'accordo ma non sono d'accordo per esempio su questioni che per loro sono di minore importanza ma li fanno belli davanti ai suoi elettori davanti ai suoi propri elettori e quindi succede che il partito democratico e il PDL si ritrovano da un giorno all'altro entro 24 ore a cambiare idea perché i loro soci sono in disaccordo su quella linea e quindi ci ritroviamo noi nelle commissioni veramente a votare certi ammendamenti un giorno per poi farceli li ritirano praticamente alla sera o il giorno dopo perché non trovano questo accordo e questo sta succedendo anche in questo momento con la legge elettorale sulle preferenze siamo sul sulto di dignità di parlamentari che si sono spesi per una vita sulle preferenze che mi pare che sia veramente il minimo che possiamo garantire ai cittadini italiani ovvero di scegliere il proprio parlamentare perché magari non si vogliono trovare ancora un Casini oppure un Gasparri dentro al Parlamento un Giovanardi che purtroppo è il mio conterraneo e magari si vogliono trovare delle persone un tantinino più oneste più credibili allora succede questo c'è questa spartizione di interessi c'è questa spartizione di sedie e quindi anche le municipalizzate sto parlando appunto del territorio dell'Emilia Romagna che ha subito questo passaggio questa privatizzazione sugli interessi fondamentali come acqua gas rifiuti e si ha la critica a questi enti cioè si dice le municipalizzate hanno fallito perché? perché ci inseriscono l'ex sindaco Trombato ci inseriscono la figlia del candidato e ci inseriscono queste persone che appartengono ai partiti e fanno gli interessi dei partiti e quindi si dice questo sistema non funziona più privatizziamo privatizziamo vuol dire dare a società partecipate la concessione di utilizzare questi servizi fondamentali però cosa succede? che molte volte il servizio è più scarso e si paga di più e quindi noi non possiamo accettare questa cosa non la possiamo accettare nel fatto che nel principio che non è colpa della municipalizzata se il servizio non funziona in Emilia Romagna la colpa è di chi ci metti dentro perché se c'è un amministratore a 5 stelle che guarda il bene comune come una stella polare guarda invece di prendersi l'amico dell'amico e prende i curriculum e dice bene adesso facciamo una cernita guardando le competenze quindi che competenze hai i conflitti di interesse perché il conflitto di interesse non è solo Silvio Berlusconi ma è tutta una serie di questioni legate al sistema imprenditoriale politico di questo paese e soprattutto che non abbia incarichi nei partiti e avuto incarichi di partiti in maniera esponenziale diciamo cioè quindi a livello alto o a livello più o meno alto basta fare questa scelta dai l'incarico a una persona capace e magari non ti fa fallire un'impresa un'azienda che ti garantisce un servizio fondamentale basti pensare solo all'autostrade tutti i milioni di euro miliardi che lo stato poteva fare con queste strade invece di darli in concessione a qualcuno o al project financing tanto caro al nostro amico Vasco Errani e poi cosa viene a scoprire che tutti questi interessi questi appalti creano chiaramente delle problematiche di indagini aperte perché perché come è successo a Firenze con la Lorenzetti che tra l'altro nell'entourage troviamo anche Walter Bellomo che fa parte della commissione di via nazionale a Roma e hanno degli interessi sul treno a alta velocità perché sul territorio spingono chiaramente spingono perché queste grandi imprese danno da mangiare e quindi se danno da mangiare non vengono ascoltati i cittadini sul territorio che vanno a protestare a raccogliere firme perché non si vogliono vedere stuprato il proprio territorio in cui vivono con le proprie famiglie con i propri bambini non vogliono vedersi distruggere il futuro e l'ambiente del proprio territorio ma manifestano e cosa succede che ogni tanto queste persone vengono scoperte ci sono delle indagini e quindi ci sono degli arresti che portano a scoperchiare dei pentoloni che non sono solo della destra noi ci siamo sempre abituati a vedere un mondo che era quello di Berlusconi il cattivo indagato poi dall'altra parte però non vedevamo l'altra faccia della medaglia che è quella del partito democratico e quindi questo è indicativo è indicativo perché perché quando va in crisi una parte una faccia della medaglia va in crisi anche l'altra perché si ricattano l'un l'altro cioè il fatto che Berlusconi vada a bracetto con D'Alema da sempre è solo una questione di interesse è solo una questione di interesse il fatto che Berlusconi sia stato riesumato prima da D'Alema poi da Veltroni poi in questo caso da Renzi sia stato salvato innumerevoli volte è indicativo del fatto che queste persone hanno gli interessi da difendersi l'un l'altro allora che credibilità può avere un'opposizione che non va fino in fondo cioè che arriva come nel caso della ghigliottina arriva fino al giorno prima della decadenza del decreto e poi non fa più opposizione come è già successo nel Parlamento Italiano la differenza è che noi quel passo lo facciamo cioè li mettiamo in crisi e gli diciamo voi avete fallito questo decreto è decaduto questo non era mai successo e quindi mi riallaccio in questa trama di potere economici al fatto che questi decreti incostituzionali sono arrivati alla Camera c'è stata un'opposizione che ha fatto semplicemente il proprio dovere cioè noi stiamo lì cerchiamo di aprire la scatoletta di farvi sapere quello che sta succedendo le porcate che approvano e facciamo con tutti i mezzi a nostra disposizione pacifici e democratici anche se ci definiscono potenziali avversori o potenziali stupratori cerchiamo di fare il nostro dovere ovvero farvi sapere cosa stanno facendo e cercare di fermarlo e per questo un giudice che possiamo definire imparziale tra virgolette che è il presidente della Camera che tra l'altro viene da una forza d'opposizione come SEL pone per la prima volta nella storia della Repubblica la tagliola e ai deputati che protestano in modo pacifico gli dà il cartellino rosso e dà il cartellino rosso che guardate non è poco perché stiamo parlando il sottoscritto per esempio a 25 giorni di sospensione che vuole dire stare fuori dal Parlamento per 5 settimane ora la prossima settimana andrà in aula per esempio la mozione sull'alluvione che potete capire quanto io ci tenga perché vengo da quei territori e quindi non poterla discutere oppure provvedimenti sulla giustizia mentre il questore d'Ambroso che è un questore della Repubblica che ha picchiato una donna in piena aula parlamentare negandolo finché non ha visto evidentemente il video in cui tranquillamente appoggiava uno schiaffo su una madre di famiglia gli viene dato 15 giorni di sospensione quando noi chiedevamo le dimissioni io ho occupato la commissione giustizia proprio per chiedere dimissioni di questo personaggio che era in commissione con noi e di una persona come Laura Boldrini che è incapace di tenere l'aula e soprattutto incapace di gestire i lavori parlamentari perché questo non sarebbe mai accaduto se lei avesse gestito in maniera differente l'aula e quindi ci ritroviamo con un personaggio un capofila napolitano che garantisce tutti questi interessi è il collante diciamo lui è il collante perché perché una persona non intransigente non coerente come noi noi non accettiamo questi inciuci perché pensiamo che i diritti dei cittadini devono venire sempre prima degli interessi delle lobby delle banche o dei partiti politici semplicemente l'interesse della gente deve venire prima e allora avremmo preferito magari Giulia un ministro della giustizia come Nicola Gratteri al posto di un Orlando che è un uomo dei partiti e magari avremmo preferito anche due sottosegretari diversi da Cosimo Ferri che è storicamente una persona implicata in diversi è uscita sempre indenne in diversi procedimenti e il buon Costa che il primo atto che ha fatto quando è entrato in commissione giustizia non me lo ricordo quando ancora si doveva estaurare tutto chiese subito di parlare di intercettazioni perché il problema della giustizia in Italia in effetti non è che un processo civile dura dieci anni non è che l'ottanta per cento dei processi va in prescrizione ma in effetti è che i magistrati hanno questo brutto vizio di intercettare tutto il popolo italiano veramente il male non so se voi avete paura di essere intercettati ma il male dell'Italia è proprio l'intercettazione no? e questo è il problema che tutti che tutti hanno e quindi è stato dato un messaggio da Renze Berlusconi è stato detto vi lasciamo alla giustizia voi garantiteci di campare un altro po' perché questi del Movimento 5 Stelle fra un po' ci fanno le scarpe e nello stesso tempo appunto la giustizia la giustizia che appunto parte tra il Presidente della Repubblica e il Presidente della Camera che dovrebbe garantire il Presidente della Camera rappresenta la Camera il Presidente della Repubblica rappresenta l'Italia la prima istituzione quando si parla di indulto quando il Movimento 5 Stelle fa presente che non si può sempre andare avanti in via emergenziale con indulto e amnistia il Presidente della Repubblica allontano migliaia di chilometri era in Polonia se non sbaglio si permette di dire dalla sua posizione che noi non pensiamo ai problemi della gente ce ne freghiamo cioè guardate che questo è gravissimo che vengano dei messaggi da un referente della politica chiaramente ma dovrebbe essere una figura imparziale che tutela tutti dei messaggi contro una parte politica non è mai successo io penso che non sia mai successo e anche lo stop di Gratteri che è stato molto probabilmente dovuto all'intervento di Napolitano perché era contro l'indulto ma penso che era anche contro una magistratura di inchiesta come quella di Gratteri come quella del pool siciliano che effettivamente andava a scoperchiare delle situazioni imbarazzanti tra politica e criminalità organizzata e forse non gli poteva andare bene perché lui era un politically correct e quindi aveva degli interessi da tutelare chiudo con la storia del finanziamento pubblico perché queste persone stanno in piedi e perché queste persone le troviamo sempre con le mani in pasta da Lusi a Belsito a Fiorito e la compagnia Bella perché chiaramente hanno dei soldi da spartirsi e questi soldi derivano da miliardi che hanno preso anche nel passato quando un referendum del 93 diceva gli italiani dicevano che assolutamente questi soldi non erano dovuti ai partiti politici e Nalo cosa abbiamo sentito dire addirittura da Buttiglione Buttiglione ci è venuto a dire ma vabbè non è che i referendum sono vincolanti c'è la politica che può prendere anche altre scelte no voi non contate un cazzo io conto tutto voi non contate nulla e questo è il messaggio che ha dato il problema non è solo che sono passati più di vent'anni il problema è che non l'hanno mai attuato cioè si sono sempre intascati i soldi gli hanno cambiato il nome come stanno facendo adesso vi stanno parlando in giro lo chiamano abolizione del finanziamento pubblico e partiti in realtà si intascono ancora fino al 2017 i soldi e poi con delle manovre vergognose tra le quali voglio citarne una che è la cassa integrazione per i licenziati dai partiti cioè mentre voi vi fate la vostra cassa integrazione dopo un po' finisce praticamente questi soggetti hanno la cassa integrazione a vita questo è il concetto di giustizia che hanno i partiti veramente straordinario e quindi cosa succede che si intascano questi soldi fanno i ricatti Renzi fa i ricatti voi votatemi questo e noi restituiamo il bottino come se fosse un'associazione criminale che vi dico io vi do questo voi datemi quello questi soldi sono dei cittadini Renzi li dovete restituire subito perché non sono vostri appartengono al popolo italiano non a voi non a voi quindi li dovete lasciare e poi succede che senza soldi questi partiti in effetti fanno un po' fatica a mantenere su queste strutture quello della cassa integrazione è diciamo una chiara un'evidente prova che loro sono finiti senza questi soldi sono finiti senza questi interessi e sono finiti soprattutto se un'altra parte nel gioco delle carte dei castelli viene meno se Berlusconi viene meno sono finiti se Renzi viene meno Berlusconi perché dopo magari qualcuno parla parla e svela questo giochino di interessi e svela magari anche qualche carta scottante che farebbe venire fuori delle verità che poi magari farebbero andare avanti indagini che porterebbero magari qualcuno ad andare nel posto che gli si addice ovvero la galera e quindi cosa ha fatto il Movimento 5 Stelle ha restituito non ha voluto questi 42 milioni di euro di rimborse elettorali ha preso metà del proprio stipendio e l'ha devoluto in questo fondo per le piccole e medie imprese per garantire appunto lavoro che è quello che l'Italia manca perché si fanno tante belle parole ma non si va mai a fare fatti concreti per il proprio paese ha restituito rendi contato i rimborsi appunto della diaria e quindi ha dato prova coerenza del fatto che si può fare politica anche senza soldi anche perché questi soldi non vengono dati prima ma vengono dati dopo in modo forfettario questi si intascano soldi che non hanno mai speso fanno mutui in banca per soldi che gli verranno dati dopo ma che non spendono quindi di fatto è una vera e propria associazione a delinquere questa e quindi tutti questi soldi che noi non servono perché non servono perché ci basta la passione ci bastate voi ci bastano i cittadini che vengono e si autofinanziano le proprie spese vanno ogni sabato ogni domenica a fare banchetti con la pioggia con la neve perché? perché ci credono perché credono che questo futuro che questi politicanti ci hanno rubato degli ultimi vent'anni questo futuro delle prossime generazioni valga di più che starsene a casa zitti o prendersi i soldi dei rimborsi elettorali per poi lasciare il paese alla fame ed ecco la nostra forza e la forza del Movimento 5 Stelle sono i cittadini i cittadini che si sono stancati di bersi tutte le balle che ci propinano i cittadini che si sono stancati di lasciare una croce ogni cinque anni per poi vedersi rappresentati da questi signori i cittadini che vogliono rendersi fautori del proprio futuro e si sono stancati di questa situazione politica e vogliono cambiare il futuro del proprio paese perché appunto non ne possono più di questa politica e noi a tutti questi cittadini a voi che ci siete venuti a ascoltare e a tutte le persone che invece di lamentarsi e basta partecipano noi dobbiamo questa serata e noi dobbiamo veramente la battaglia che stiamo compiendo per migliorare a questo paese grazie grazie Vittorio a questo punto sono intervenuti tutti io lascerei lo spazio alle domande del pubblico una o due domande però volevo volevo semplicemente prima di lasciare le domande al pubblico approfittare della presenza di Nicola Morra per sapere visto che si parla del Movimento 5 Stelle quello che sta succedendo al Senato tra i colleghi del Movimento 5 Stelle fuoriusciti espulsi eccetera eccetera Nicola ti do due minuti risolvi questa questione dopodiché lasciamo le domande 4 espulsi 6 dimessi ma in realtà 5 perché uno degli espulsi ha comunque rassegnato la lettera di dimissioni al Presidente del Senato Grasso perché questo perché alla lunga soprattutto nel gruppo del Senato si è palesato quel disagio che noi abbiamo avvertito fin da subito innanzitutto perché al Senato per ragioni politico numeriche chi ha ancora nelle orecchie la voce della sirena della sinistra e così via in qualche modo può ritenere e magari ha ritenuto di aver potuto svolgere un ruolo che poi altri hanno deciso non potesse essere svolto per cui in più occasioni noi abbiamo sentito ripeter di accordi aperture valutazioni ma avremmo dovuto e questo è però un un dimenticare che noi ci siamo presentati agli italiani e a quei quasi 9 milioni di elettori che hanno deciso di investire sul movimento in termini di speranza per un futuro diverso con ben altri propositi perché noi abbiamo semplicemente detto noi magari non siamo bravi noi magari dobbiamo imparare tanto però una cosa sappiamo che con questa gente che ci ha portato al fallimento noi non vogliamo scendere a compromessi perché se tu ti accordi con il diavolo in qualche modo ti corrompi e questi sono il diavolo poc'anzi vi è stato detto di ERA e di tante altre esperienze SCR ma insomma la memoria potrebbe aiutarci in tanti casi ora noi ci siamo dati delle regole regole che tutti quanti abbiamo accettato sia con il non statuto sia con il regolamento dei gruppi parlamentari queste regole prevedono la possibilità di ricorrere a sanzioni in particolare all'articolo 15 del regolamento del gruppo del senato in caso di palesi violazioni del regolamento stesso del non statuto ora noi ci siamo ho detto dati delle regole anche in particolare per la comunicazione tutto a posto mi pare un'altra espulsione adesso arriverà scherziamo perché non è successo nulla di eclatante è successo quello che si poteva prevedere ipotizzando che un gruppo giovane perché noi ci siamo affacciati alla vita parlamentare adesso avesse comunque necessità di rinsaldarsi e di ritrovarsi tutti su fondamenti teorici da tutti condivisi e questi fondamenti teorici sono quelli per cui è nato il movimento il movimento non vuole stare a sentire di fiducia anche perché come spiegavo la fiducia che è qualcosa di straordinariamente importante la si deve dare a chi la merita e noi italiani abbiamo memoria di tantissime fregature che tutti ci hanno fregato e che tutti ci hanno distribuito ora per far cambiare mentalità a noi stessi noi diamo fiducia ai singoli provvedimenti votandoli quando ci sembrano adeguati quando ci sembrano utili quando ci sembrano ben fatti ma su singoli provvedimenti questi colleghi hanno accettato delle regole relative alla comunicazione regole che hanno violato non sono stati gli unici perché è difficile assoggettarsi al rispetto delle regole quando si è stati abituati all'anomia o se volete all'anarchia e noi italiani per molti versi siamo stati abituati a far quello che vogliamo ora 1,2,3,4,14,18 richiami sono arrivate delle richieste di assemblea congiunta per procedere appunto alla valutazione o meno se mandare alla rete questi colleghi colleghi che si sono segnalati fin da subito perché fin dal 16 marzo noi abbiamo avuto problemi al nostro interno e lo ricorderete tutti e si trattava della vicenda dell'elezione di Pietro Grasso a presidente del senato però poi non è stata quella e soltanto quella la vicenda perché tanti altri hanno sbagliato e tutti quanti possiamo sbagliare e io per primo reputo che un errore lo si debba concedere a tutti però se poi in maniera reiterata ed insistita a fronte di continui richiami manifesti la volontà di fregartene allora questo significa che forse ti poni al di fuori del gruppo con i tuoi stessi comportamenti noi ci saremmo aspettati in tanti che questi colleghi prendessero per conto loro la determinazione di fuoriuscire non ci sarebbe stato alcun problema altri l'avranno già fatto e avrebbero chiarito il quadro senza intervenire in maniera brusca e se volete anche forte però in alcuni casi io sono dell'avviso è fondamentale rispettare quel progetto che ci ha portato tutti qua perché se io per esempio avessi dovuto dar ascolto a Matteo Renzi io poi con che faccia mi presentavo ai miei concittadini di Cosenza a sostenere o comunque a dialogare con un esecutivo che annoverava fra i suoi sottosegretari uno che ha avuto il barbaro coraggio di non far arrivare in edicola un giornale semplicemente perché il giornale stesso voleva dar una notizia per lui scomoda con quale faccia e allora se vogliamo provare a mettere in piedi un'altra Italia noi dobbiamo essere innanzitutto intransigenti rigorosi severissimi con noi stessi perché soltanto in questo modo lo si potrà essere con gli altri i colleghi che poi si sono dimessi hanno manifestato solidarietà ai colleghi espulsi hanno ritenuto che tutte le procedure seguite fossero state espressione di un sentiment assolutamente non democratico come se noi fossimo telecomandati perché questa è l'accusa che più sovente ci viene ripetuta da parte di Genova e di Milano tutto tranne che questo noi possiamo essere considerati disorganizzati possiamo essere considerati parlo per me ignoranti possiamo essere considerati degli improvvidi degli svogliati dei negligenti ci può stare ma che si sia telecomandati questo assolutamente no perché tutti quanti abbiamo il numero di Beppe il numero di Gianroberto dialoghiamo fra di noi spesso abbiamo avuto degli scontri che si sono sanati all'interno dell'assemblea quando ci sono stati problemi perché non abbiamo rispettato il metodo del coinvolgimento della rete dei cittadini attivisti abbiamo chiesto appunto alla rete di prendere posizione e per esempio Beppe e Gianroberto sono stati messi in minoranza e l'hanno accettato ora continuare insistentemente a macinare contro il movimento questa continua serie di dichiarazioni esternazioni e così via continuare a ricordare che noi si è là per fare emendamenti ordini del giorno noi siamo là per rivoltare le istituzioni che non sono più dei cittadini e per restituirle ai cittadini che poi si producano 17 emozioni o 24 emendamenti questo è secondario certo se verranno prodotti e se verranno accolti meglio ancora ma noi dobbiamo mettere in anticamera che possano non essere accolte come di fatto è sempre avvenuto perché tutto quello che è presentato dal movimento semplicemente perché è presentato dal movimento viene bocciato a priori anzi non viene neanche calendarizzato ora il movimento sta vivendo una fase se volete di crisi ma crisis che dirò dal greco non indica affatto un processo di morte ci sono crisi di crescita sono crisi evolutive noi siamo convinti attraverso queste decisioni per quanto umanamente pesanti emotivamente coinvolgenti di aver fatto una scelta giusta potessi pure che si sia sbagliato ma noi questo lo verificheremo a breve noi crediamo che tutto ciò sia una sorta di garanzia una sorta di tutela ulteriore che dobbiamo offrire per il progetto che ci porta a star tutti qua un sabato sera alle 10 e mezzo salvo poi credere come volevano Battista Campanella e tutti gli altri che invece si dovesse ascoltare per l'ennesima volta qualcuno vi ricordo che questi colleghi per esempio hanno disapprovato il comportamento dei deputati quando sono saliti sul tetto a Montecitorio perché si stava tentando di difendere 138 certe cose non si debbon fare mi sono sentito ripetere dai colleghi ma come stiamo scherzando oppure ancora si è detto da parte di questi colleghi che sull'impeachment avremmo forzato no assolutamente anzi saremmo dovuti intervenire prima forse saremmo dovuti essere ancora più tosti ancora più rigorosi però ci sta perché appunto siamo disorganizzati magari soffriamo di mancanza di coordinamento e io sono convinto per quanto voglia ripeter per l'ennesima volta che mai e poi mai si deve mancare di rispetto alle persone noi possiamo disapprovare le idee le convinzioni ma mai mai le persone io sono convinto che questa scelta ci porterà frutto e il frutto deve essere la possibilità di far sentire ancora di più fiato sul collo e la possibilità di arrivare noi il più presto possibile al governo del paese perché il governo del paese in mano ad una forza che assolutamente libera da vincoli da controllo di lobby da interessi di qualunque tipo è l'unica forma di governo che potrà restituire a tutti quanti noi una speranza e penso di poter tornare a breve a parlare non più di espulsioni dimissioni o d'altro ma di legge elettorale di reddito di cittadinanza di abolizione dell'IRAP di contrasto alla legge Fornero di ricorso avverso alla conversione attraverso procedure non contemplate dal regolamento della Camera del decreto IMU Banca Italia dismissione di edifici pubblici perché ormai in ogni decreto c'è di tutto e io spero che la politica possa tornare ad essere veramente il pane quotidiano con cui noi alimentiamo la nostra speranza e la speranza per i giovani perché questo è l'unico dovere che mi sento di dover onorare tutti i secondi della mia vita parlamentare se ci sono domande una o due domande giusto al volo stringate non fate monologhi e prego anche voi anche voi come ti chiami come ti chiami scusa il nome Lorenzo no guarda Lorenzo allora noi penso che tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle quando vengono invitati in eventi pubblici chiaramente non andiamo magari al banchetto del PD a parlare alla gente ma quando sono liberi i cittadini che portano avanti battaglie del movimento se siamo liberi appunto noi andiamo con molta felicità perché ci danno la possibilità di parlare ai cittadini di cose che magari sui giornali e sulle tv non se ne parla comunque non si vedono queste notizie in questo caso questa sera la presentazione di un libro è oggi una guerra molto importante i grill estensi da anni anche quando non c'era l'interesse di andare in una lista o comunque di portare avanti un progetto che mirasse all'entrata in un comune facevano serate informative divulgavano informazioni portavano avanti battaglie e raccolte firme nel nome appunto dell'ambiente e del territorio quindi non è un nostro endorsement ma è più un accettare un invito molto gradito per chi sul territorio combatte per chi porta avanti iniziative sul territorio la certificazione è una cosa che decide appunto non decidiamo noi visto che comunque veniamo sempre definiti come burattini di grill in realtà noi abbiamo la nostra testa e decidiamo tutte le cose in assemblea però lui è il garante quindi deciderà appunto confrontando e ricevendo le liste con i nominativi se concederanno la certificazione questo però avverrà nelle prossime settimane quindi penso che grill estensi stiano aspettando una risposta una risposta molto importante per Ferrara perché vorrei dire continuare e riacquistare quella credibilità che forse il nostro territorio grazie anche a persone come Valentino Tavolazzi ha perso e noi saremo a sostenere le idee del movimento in primis e a portare questo messaggio ai cittadini certificazione o no certificazione diciamo io volevo aggiungere due considerazioni proprio veloci anche io vengo da un territorio in cui il movimento è dilaniato perché ormai dappertutto si sta diffondendo questa patologia io penso come diceva appunto Vittorio che noi si possa semplicemente aderire e anche con piena felicità ha detto proprio felicità Vittorio a queste richieste che ci vengono da chiunque penso anche che qui non ci sia stato nessun endorsement a favore dell'uno e a danno dell'altro penso come ribadiva Vittorio che poi debba essere lo staff in quanto garante a di Rimer ma penso anche un'altra cosa chi vi parla se buttate in questa avventura non per tranne vantaggio ma per spirito di servizio essendo ogni giorno sempre più convinto del fatto che devono essere tutti quanti i cittadini ad autodeterminarsi io per quanto possa avere per quanto possa avere la possibilità di determinare o a favore dell'uno o a favore dell'altro ho imparato che in questo modo si rallenta semplicemente la soluzione del problema evidentemente le comunità debbono vivere determinate crisis debbono sperimentare la sofferenza di alcune esperienze e poi avendo avuto consapevolezza di quell'esperienza potranno determinarsi liberamente e autonomamente perché la legge si è imposta all'alto è sempre una legge subita che si cerca sempre di trasgredire e la legge più forte è la legge più vera è quella che ognuno di noi avverte nella sua coscienza altre domande l'ultimissima grazie a tutti grazie Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Abbiamo tempo per un'ultimissima. Un'ultimissima la prendiamo. Grazie a tutti. 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 Non solo che nel caso io avessi trovato un benché minimo sospetto di zone d'ombra, di passaggi di dubbio, io per prima avrei fatto un passo indietro. Beppe e Gianroberto li sto conoscendo, sono magari ogni tanto, come tutti quanti noi, fallaci, sbagliano, dicono Beppe è uno che va preso, è un generoso, ma è anche uno cui magari è difficile estorcere un caffè al bar, questa è la voce che circola, d'altronde come me è nata a Genova, però è una persona che si è data per tutti quanti noi. Io l'ho conosciuto a Cosenza quando è venuto le prime volte in supporto alla nostra prima esperienza all'amministrativa e non ci ha chiesto nulla, ci ha chiesto semplicemente che gli riservassimo, se era possibile, il posto per il camper, perché arrivava in camper e si voleva un pochino, gli è stato trovato il posto, gli è stato riservato questo posto, poi si è fatto la doccia, è venuto, non ha voluto altro, non ha chiesto altro, è stato a disposizione, e anzi ci ha dato entusiasmo, ci ha dato fiducia e si è messa a disposizione. Gian Roberto, per quello che conosco, per quello che so, perché sono forse uno di quelli che lo frequentava e lo frequenta di più, è una persona straordinariamente razionale, che ha una grande diffidenza nei confronti di un mondo, che è quello dei giornalisti, anche perché gli hanno fotografato il bambino piccolo e hanno pubblicato le foto sul giornale. Al che lui mi ha fatto questa riflessione, cioè io queste cose non le tollero. Ora noi dobbiamo riconoscere che in Italia ci sono certamente giornalisti seri, ma ci sono anche giornalisti che meriterebbero di essere riesaminati quando gli si concede il patentino, perché certe volte veramente ti lasciano basiti per la qualità del loro servizio. Ora l'informazione è un passaggio fondamentale in uno stato democratico. Casaleggio si è sempre dichiarato disponibile ed è stato disponibile, quando la Gabanelli l'ha attaccato, lo ricordiamo, lui ha detto basta che vai alla Camera di Commercio, là sono depositati tutti i libri contabili e tutto è venuto fuori. Io ho conosciuto gente che lavora adesso per formigli, Antonino Monteleone, probabilmente lo conoscete, lui è come me di Cosenza, mi ha detto io ho lavorato per tre anni consecutivi alla Casaleggio Associati e ti posso garantire, questo lui mi diceva perché la conosceva molto più di me, che magari è insolito, lui ha usato in dialetto affettuosamente un altro termine, è matto, però è una persona buonissima. Ora, tutti possiamo avere qualche problema, avere qualche difetto, però Gianroberto non si è mai fra virgolette tirato indietro, certo non è uno che ama il contatto con il pubblico, quando sale sul palco Beppe è quasi costretto a buttarlo sopra perché ha ritrosia ad apparire, è uno che lavora, è uno che ha delle sue convinzioni, è uno con cui ogni tanto mi sono confrontato, certe volte lui mi ha convinto, certe volte io l'ho convinto, quindi si è ricreduto. Penso che questo significhi che sia una persona assolutamente normale, come tutti quanti noi, magari è molto più riservata, ma io non penso che si debba essere per forza capace di prendere un microfono per poter ambire a... L'importante è valutare le idee, le idee sono quelle di una democrazia partecipata, di una democrazia pubblica, controllata e controllabile. Se poi ci crediamo, mettiamoci pure noi in gioco e se ritroviamo dei difetti, dei problemi organizzativi, li segnaliamo, li critichiamo, li aggiustiamo, ma diamo una mano a far uscire il paese da questa membra in cui ci siamo trovati, perché tutto si potrà dire di Beppe e di Gianoberto, tranne che sia anche responsabilità loro quella di avere un debito pubblico enorme, quella di avere un IMSS che è prossimo al collasso, quello di avere un sistema dell'occupazione giovanile che è tale soltanto sulla carta, perché lo dovremmo chiamare un sistema della emigrazione giovanile, perché ultimamente questo fanno i nostri ragazzi. Per cui certamente ognuno si deve prendere le sue responsabilità, ma credo che Beppe e Gianoberto, così come tutti quanti noi, possiamo rispondere di quello che abbiamo fatto e non di quello che si pensa e si vorrebbe far credere noi abbiamo fatto. Io volevo dire anche un'altra cosa, di Casaleggio e di Beppe veramente se ne sono sentite di ogni, forse al limite veramente della diffamazione, soprattutto di Gianoberto Casaleggio che è una persona che ho incontrato che è assolutamente timida, una persona comunque di cuore, molto pragmatica, che gli hanno rifilato di tutto, dal guro, dallo stregone, dalla persona che trama e fa i milioni di euro grazie al Movimento 5 Stelle, mentre basta andarsi a vedere i bilanci e si capisce che la società di Casaleggio è addirittura in perdita, cioè ci stanno perdendo con questa entrata nella politica del Movimento 5 Stelle. E io le volevo dire una cosa, visto che comunque lei si ha alzato e ha detto non ci parlate di Grille e Casaleggio, come se avessimo tante cose da nascondere, mi aspettavo che lo dicesse lei cosa hanno fatto queste due persone di male e invece glielo dico io. Per esempio Grille è stato condannato in via definitiva per un micidio colposo, per un incidente stradale, che può capitare, però il fatto è che è una persona che non è in Parlamento, quindi non ha nessun incarico, non decide sulla sorte dei suoi figli, non decide nulla perché non è nessuna partecipata, non ha svolto incarichi pubblici di nessun tipo, non è in Parlamento ma ci ha mandato noi, dei ragazzi liberi che lottano per il futuro del nostro paese e soprattutto Grille ha fatto i soldi, sì è vero, ne ha fatti con spettacoli, che sono spettacoli diciamo degli show totalmente onesti, non hanno nulla da recriminare con altri soggetti, che invece sono in politica, e hanno fatto i soldi grazie alla politica, più o meno onestamente. Quindi lui ha fatto i soldi in modo onesto e trasparente, magari invece però dovrebbe prendersela di più con chi è andato a toccare anche il suo portafoglio, come il centro-destra e il centro-sinistra, e li ha fatti in modo quantomeno poco trasparente. L'ultima domanda, grazie. 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 Grazie a tutti per la partecipazione, alla prossima, grazie a tutti. Grazie a tutti.